Speravamo che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ha annunciato. Non nasconde la delusione il Presidente del Veneto Zai al decreto governativo introduce una fase 2 di convivenza con il freno a mano tirato. E' giusto che il Comitato Scientifico esprima le sue considerazioni, ci mancherebbe, è nostro faro, ma poi bisogna che chi governa si prenda anche la briga di mettere in fila le cose, non vada via col freno a mano tirato, non pensi di avere solo un'azione notarile e cominci ad affrontare. E se i dati parlano chiaro del virus non ce ne sbarazzeremo dall'oggi al domani, la convivenza deve essere affrontata con regole chiare e il Governatore contrattacca. Puoi andare in farmacia, in edicola, in parafarmacia, in libreria, in cartoleria e a comprare i vestiti per i bimbi, puoi andare al supermercato ma non vuoi fermarti alla pizzeria per comprarti una pizza nel cartone tornando a casa. Capite che se questo l'approccio non ne veniamo più fuori, veramente l'appello che faccio io è che si rivedano queste misure.